Sono oltre a 30 anni che a Brescia si parla della realizzazione del Parco delle Cave, un'area di oltre 4 milioni di metri quadrati ben visibile dalla Maddalena, il monte che sovrasta la città, un'area costellata da tanti laghetti artificiali. Per anni i cavatori hanno estratto la ghiaia necessaria all'edilizia e alla realizzazione delle grandi opere. Ora però è giunto il momento atteso dai tanti cittadini dei quartieri di San Polo, San Polino e Bufalora che vivono in una zona diventata ormai critica dal punto di vista ambientale. Abbiamo portato a fine un accordo con un operatore, se questo accordo dopo la delibera del Consiglio Comunale andrà in porto, il Comune potrà disporre di ben 680 mila metri quadrati di superficie tra acqua e terreni per aggiungersi al Parco delle Cave che sta nascendo. L'accordo con il cavatore Faustini contempla l'accessazione dell'attività di estrazione prevista per il 31 dicembre 2016. Sarà un'area dedicata agli sport all'aria aperta e vedrà anche la realizzazione di un maneggio, di un bar-ristorante e di una casa del Parco, strutture di servizio per gli utenti ma non invasive. In cambio la Faustini, che dovrà anche curare la viabilità di accesso alle cave e il collegamento con la stazione della metropolitana, otterrà un'area di terreno edificabile. L'operatore realizzerà una casa di riposo per anziani, che voglio ricordare è utile la città, se considero che ben 300 anziani della nostra città sono residenti in casi di riposo della provincia. Sistemerà questi due laghi, Latte 20 e Latte 23, uno verso il Comune di Borgo Satollo, l'altro verso dietro San Polino. A queste due aree si aggiungerà già da quest'anno la cava di proprietà della nuova Beton. Sono certo che questa area, che complessivamente è quasi di 2 milioni e mezzo di metri quadrati, non potrà che la città beneficiarne, in particolare i cittadini di San Polo e Buffalora, che sono quelli più vicini, ma in generale tutti. Noi abbiamo l'ambizione di creare questo parco naturalistico, invece del famoso parco dello Sport, vale a dire lo stadio, che era nella precedente intenzione della precedente amministrazione. Entro 60 giorni l'operatore dovrà quindi firmare l'accordo, ma all'appello mancano ancora altre cave che potrebbero portare l'estensione del parco a oltre 4 milioni di metri quadrati. Il laghetto Fips è già privato ed è già naturalistico, non occorre evidentemente rilevare. sugli altri due stiamo trattando e se questo va in porto sono certo che anche gli altri finiranno per essere considerati dentro in questi accordi.